L'incidente è avvenuto tra due veicoli questa mattina a Pesaro. Una Citroen proveniente da Cattabriche si stava immettendo sulla statale 16. Da una prima ricostruzione la vettura non ha rispettato la precedenza e ha urtato un autocarro in marcia sulla statale da Pesaro verso Rimini. Ad avere la peggio è stato il conducente della Citroen che ha riportato dall'urto delle ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e il 118 che ha soccorso il conducente. Al momento sono in corso gli accertamenti esatti della dinamica.